Passe 50, quando vuoi tutto tuo, vincitore di una supercoppa, se possiamo vedere prestazioni le vedremo a questo ragazzo, se la distanza chilometrica non li ha ingannato, la parte non ci sarà scusa, vediamo il passo sicuramente aggressivo di Aaron, ex pilota del roveretto allenato direttamente dal direttore sportivo del Vespa Club Italia, nonché adesso discepolo di Adelino De Stefani, meccanico ufficiale Polini, l'urivincitore di gare di gincana negli anni Aaron darà il filo da forza a tutti i concorrenti, la classe 50 e la sua classe regina Chiude, no, non chiude, Aaron rientra, sbaglia l'uscita Aaron alla fine Aaron, no, contrario Aaron mi sbaglia l'uscita, chiude con un tempo di 1-0-1-40, Aaron Larker, zero di penalità nonostante dentro